ragazzi non sei per qualche motivo salvata la registrazione ma sto vincendo contro il valenza per 3 a 1 e se non sei salvata la registrazione non so il primo motivo però abbiamo riuscito a fare un altro gol però non passiamo mi sembra quindi noi proviamoci vabbè noi vogliamo sempre trovare gol però non mi ricordo adesso perché non faccio un attimo un conto un calcolo vabbè faccio un calcolo al volo a volo staremmo 6 a 6 no 6 a 7 però visto che fifa è fifa in questo momento staremmo senza contare i gol fuori casa staremmo 6 a 5 a 4 quindi vuol dire che questa partita finirà 6 a 5 a 4 e quindi devo trovare almeno un gol no vabbè un gol lo devo trovare no 1 no 2 siamo 6 a 5 in questo momento devo trovare un gol forse non riesco a calcolare mentre gioco allora per qualche motivo non si è salvata appunto la registrazione delle prime due partite e quindi quando me ne sono accorto aveva già iniziato il secondo tempo di milan valencia e così sta continuando il video ormai se n'è andato la registrazione se n'è andata se le parte GEDESH 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 dentro l'AXALTO 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 ancora lui è della rimonta completa è MOLIL a me interessa non può pareggiare non lo deve fare non deve pareggiare il Milan il Milan Caglie con Gomez con Dobbian dobbiamo prendere gol assolutamente per carità divine e di Dio se no ci pareggiano qua per i gol fuori casa e finiremo di nuovo 4 a 2 quindi siamo a pareggio però per noi se vuol e quindi andremo in pareggio e io non voglio andare in pareggio voglio vincere voglio finirla qui voglio finirla qui voglio tenerla qui voglio vincere così anche se facciamo un altro gol e loro lo fanno cioè allora se facciamo un altro gol e lo subiamo non fa niente un novantesimo un novantesimo non dobbiamo subire gol un novantesimo non dobbiamo subire gol per forza e la legge del più forte e invece no donare una spazia ed è finita iniziamo qui raga scusate cioè questa era l'ultima partita di oggi perché abbiamo fatto Napoli che abbiamo vinto 2 a 0 contro il Lazio che abbiamo vinto 4 a 1 doppietta di Pagetà doppietta di di Werner qui passiamo agli ottavi Tammian e Lorenzo 6 a 5 Inter Lipsi ha perso Inter PSG Atletico Madrid PSG stanno pareggiando Liverpool Bayern stanno pareggiando Napoli perde 4 a 0 contro il City vabbè ormai ha vinto il City purtroppo e il Barcellona sta vincendo 3 a 1 contro la Juve buono ma poi siamo ancora agli ottavi cioè perché marzo aprile maggio no ok vabbè niente questo video può finire qua lasciate like iscrivetevi al canale attivate la campanita per altri altri P SO DI e ciao